Nome. Luca. Cognome. Salvatore. Data di nascita. 8881. Professione. Amministratore di reti informatiche. Le tue passioni. Attività all'aria aperta. Tanta, tanta, tanta montagna e tanto sport di fatica. Le tue priorità nella vita. Mio figlio e la voglia di cambiare questa città. Perché sei nel movimento? Ho fatto parte per qualche mese di un comitato di quartiere e il muro di gomma che si è creato tra il comitato di quartiere e i vari comitati di quartiere, perché sono tanti, e l'istituzione pubblica mi ha fatto scattare la molla. L'ho trovato nel movimento i programmi, le idee e lo strumento giusto per poter cambiare questa situazione. Se dovessi essere eletto consigliere municipale, come svolgeresti il ruolo di portavoce? Cercando di coinvolgere i cittadini per farli attivare verso la pubblica amministrazione, affinché possano risolvere i loro problemi, i nostri problemi e quelli della nostra comunità. Dimmi tre cose urgenti da risolvere nel municipio. Innanzitutto mi viene in mente la viabilità sulla via triunfale e i collegamenti tra i quartieri di metro di Roma e il centro. Abitiamo nel quadrante di Roma con i parchi più grandi della città. Abbiamo l'Insugherata, abbiamo il parco di Casal del Marmo, abbiamo il Pineto, ne abbiamo tanti. Dobbiamo cercare di sfruttarli, di creare reti ciclabili di collegamento tra quartieri, reti pedonali di collegamento, aree attrezzate per poter usufruire di questi parchi con la famiglia anche per intere giornate. Un pensiero in libertà Siete mai stati all'estero? Siete mai stati in una città tedesca? Hete visto i loro parchi, le loro strade, i loro marciapiedi? Ci si potrebbe mangiare sopra, per quanto sono ben tenuti e puliti. Il senso civico che hanno le persone. Perché noi non possiamo essere come loro? Eppure siamo nello stesso continente, abbiamo la loro stessa moneta. Cerchiamo di prendere spunto da loro, non ci dobbiamo inventare niente. Prendiamo spunto e miglioriamo. Prendiamo spunto e miglioriamo.